L'oggetto della mia presentazione sarà quello di riassumere il convegno che si è svolto in novembre 2017 a Milano dal titolo I nematodi nel nord Italia, le sfide e le opportunità. La società SIN raggruppa diversi enti di ricerca e enti pubblici privati con l'obiettivo di promuovere lo studio della nematologia e la diffusione delle coscienze in ambito nematologico. Questo evento in novembre è stato organizzato grazie al patrocinio anche della regione Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna con diversi sponsor che ci hanno aiutato nella realizzazione. Cosa si è discusso in questa giornata che è stata molto positiva a mio avviso? Innanzitutto con l'introduzione del nostro presidente Roversi siamo andati un attimino a capire che cosa sono questi nematodi che sono un po' i grandi sconosciuti della parassitologia animale e dei vegetali, quelli un pochino meno considerati. Ma in realtà se vediamo anche le scienze biologiche come evolvono, vediamo che stanno sempre assumendo maggiore importanza proprio perché si sta capendo che questi nematodi diventano anche molto strategici nella gestione degli agroecosistemi. Quindi sono questi piccoli animaletti, vermiformi a sezione circolare e ormai è noto che hanno popolato tutto il pianeta in tutti i vari ecosistemi. Si stima che un animale ogni cinque sia di fatto un nematode. Questo grande successo evolutivo fa sì che da diversi anni a questa parte si sta cominciando a comprendere che alcuni disturbi nelle nostre coltivazioni ma anche nei nostri ecosistemi forestali sono proprio dovuti all'azione, alla parassitizzazione di questi piccoli vermetti. Le ultime stime parlano del 15% di perdita di produzione a livello dell'agricoltura mondiale. Quindi diverse pubblicazioni sono in fermento e si parla quindi di un problema per la food security globale quindi una problematica sempre crescente. E allora nella nostra Balitalia che di fatto è un'Italia di seminativi abbiamo voluto vedere un attimino quali sono i problemi nematologici più importanti e dato che poi nel meridione con le colture orticole sono già dei problemi molto sentiti anche dagli stessi coltivatori abbiamo invece voluto focalizzare l'attenzione sulle problematiche nematologiche emergenti nel nord Italia proprio perché qui c'è una minore sensibilità rispetto a questa problematica. La giornata si è divisa innanzitutto nell'analizzare le sfide che i nematodici propongono e quindi con la relazione delle colleghe Carisi e Cotroneo ci siamo immersi nel riso. Voi sapete che l'Italia è il primo produttore europeo di riso, Lombardia e Piemonte producono il 95% del riso italiano e quindi europeo e su riso abbiamo di fatto vecchie e nuove sfide. Si accennava prima alla nuova sfida ma io faccio un focus velocissimo su una che è una vecchia sfida è la fenencoide Sb6 che è segnalato in Italia a partire dal 1997. Io sono andato a rivedere gli atti anche del giornato di fitopatologico ho scoperto che già nel 2000 c'era stata una relazione su questo importante parassite del riso agente della punta bianca. Una parassitizzazione di questo nematode può portare in casi molto gravi anche fino al 60-70% di perdite in produzione. Si gestisce attraverso una selezione ottimale della semente perché non sto qui a raccontarvi il ciclo, molti lo conoscono comunque di fatto partendo da semente sana, quindi non infestata si può arrivare a una produzione economicamente sostenibile quindi di fatto le misure che abbiamo adottato fino ad oggi sono state orientate al controllo delle sementi controllo delle sementi che dal rinvenimento fino a 5-6 anni fa hanno evidenziato una forte diminuzione dell'infestazione di questo parassita ma ultimamente dal 2011 si assiste a una preoccupante recrudescenza probabilmente legata anche alla diffusione di nuove pratiche in risaia ma anche legata soprattutto ad alcune varietà che risultano molto più suscettibili e quindi bisognerà un attimino ristudiare anche i programmi di controllo e di gestione. Carisio ci ha raccontato l'esperienza del Piemonte dovuta al rinvenimento di melodiogene graminicola che invece in questo caso è un nematode molto molto pericoloso di origine asiatica rinvenuto un paio di anni fa è un nematode galligeno quindi endoparassita ipogeo delle radici che provoca diverse disfunzioni di assorbimento della pianta con evidenti danni nelle fasi iniziali che si mascherano poi nel corso della coltivazione per poi rimanifestarsi invece alla raccolta attualmente la diffusione di questo nematode è tra le province di Biella e Vercelli e qui vediamo per esempio la presenza del 2016 stimate in 19 ettari come rapidamente nel 2017 con i programmi di monitoraggio intensivo si siano già certificati altri 46 ettari e mezzo infestati quindi cos'è successo? è successo che subito si sono fatte delle misure d'emergenza questo organismo non era regolamentato dalla normativa fitosanitaria europea e nazionale però quindi in funzione della sua pericolosità si è capito subito che qualcosa bisognava fare e di fatto le regioni risicole Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna quindi hanno allestito oltre che un monitoraggio intensivo nelle aree focolaio anche un monitoraggio estensivo per la early detection cioè cercare di anticipare quanto prima possibile l'eventuale presenza sul territorio di questo nematode le misure fitosanitarie poi sono state raccolte e pubblicate attraverso un decreto di lotta obbligatoria adesso non sto qui a descriverle comunque è possibile anche verificare poi online le misure effettuate ovviamente i programmi saranno poi anche in prospettiva futura il nematode è questo che fa molta molta paura rispetto ad altri invece di secondaria importanza come si è visto essere quello eterodere la chista di fatto con la relazione della collega Curto a cui ho partecipato anche io dopo il rinvenimento di questo cisticolo tipico del riso però segnalato anche su mais e frumento è stato rinvenuto nel 2012 in Emilia Romagna e nel 2015 in Lombardia abbiamo visto che la gestione ottimale questi sono i sintomi in campo forte riduzione di produzione quindi con la gestione ottimale dei focolai e un'azione di monitoraggio piuttosto forte si è visto che questo nematode rientra poi in un aspetto secondario come pericolosità in questa giornata abbiamo fatto un'analisi delle orticole industriali del nord Italia quindi abbiamo detto le orticole per la maggior parte coltivate nel meridione ma patate e pomodoro costituiscono un importante settore anche dell'economia settentrionale e quindi siamo andati a analizzare la situazione della diffusione dei nematodici cisticoli della patata e analizzando un po' i dati in nostro possesso abbiamo visto come attualmente la situazione sia piuttosto diffusa quindi la presenza piuttosto diffusa sull'arco alpino quindi questi sono nematodi di origine andina di fatto hanno individuato nelle nostre alpi le ande originali ma quindi legate a situazioni di un'agricoltura complementare marginale come in questi due casi che vediamo quindi c'è preoccupazione ma c'è anche ottimismo nella gestione nel cercare di evitare che questi parassiti possano arrivare nelle aree invece più produttive un'altra sfida che abbiamo visto la mattina è stata quella del nematode cisticolo della soia presente in Lombardia dai primi del 2000 nematode anche in questo caso con questi sintomi abbastanza tipici dei nematodi che anche in questo caso viene gestito attraverso delle misure aziendali quindi non attraverso delle misure di decreti d'atto obbligatori nazionali ma con misure aziendali abbiamo visto che è attraverso l'interruzione di fatto della cultura questo nematode quasi monofago abbiamo visto appunto che con rotazioni con intercalari nematocidi e con interruzione di cultura si è potuto gestire al meglio anche questo focolaio che come vediamo sta andando progressivamente verso l'estinzione una volta completata la mattinata sulle sfide siamo andati invece anche a farci un'analisi delle opportunità che invece i nematodi ci offrono in agricoltura e quindi abbiamo visto come la maggiore attività di controllo di questi nematodi di fatto è la prevenzione la prevenzione che i servizi fitosanitari svolgono prevalentemente attraverso la sorveglianza dei punti di ingresso comunitari sia in importazione che in esportazione in Italia sono presenti 52 punti di ingresso comunitario lì c'è una freccia dei mercati che ci sono in ambito agricolo nel mondo e si è visto che di fatto tra gli organismi nocivi che sono intercettati maggiormente la fanno da padrone ovviamente gli insetti i funghi e i batteri ma ha un bello spazio e lo hanno anche i nematodi un minor spazio perché perché i nematodi si muovono con la pianta intera di fatto è molto più difficile trasportarli con materiale anche di imballaggio e quindi cosa si fa di fatto si fa prevenzione lì ai punti di ingresso comunitario questo controllo del punto di ingresso è consentito in questi anni di intercettare importanti parassiti che avrebbero potuto creare pericoli nelle nostre agricolture radofulus similis su valisneria sono piante d'acquario che vengono commercializzate per gli acquari capite bene che se arrivano infestati l'acquario dopo un po' stufa lo riverso nell'ambiente e insieme all'acquario potrei riversare anche questi importanti parassiti quindi radofulus similis irgmaniella varie specie ma principalmente la cauda crema finito controllo anche in esportazione quindi aiutiamo i nostri esportatori con i controlli sulle nostre piante che escono dal nostro paese e infine i nematodici aiutano anche nella gestione di alcune importanti parassitosi che sono presenti sul territorio e uno in particolare caso studio è stato fatto su popiglia japonica dal collega Marianelli grazie